Ancora fiamme a Positano, lunedì 20 agosto 2012, come potete vedere l'elicottero che cerca di raggiungere il fuoco, almeno nei prezzi della sede stradale, ma le fiamme stanno arrivando qui sopra, a cuore del Monte Lattari, andavano nel castello, come al solito questi incendi si lampano la sera, non a caso.